Buonasera, bentrovati ad una nuova puntata di Pixel. Questa sera vogliamo prenderci una pausa dagli argomenti che ci angosciano quotidianamente, dalla politica, dai dibattiti, dagli scontri, perché vogliamo goderci un po' i ricordi, ma non solo, vogliamo parlare di qualcosa che ci accompagna quotidianamente, di un'amica della radio. Perché ne parliamo? Perché qualcuno, che è qua con noi questa sera e tra poco vi svelerò, ha pensato di raccogliere in un libro i 40 anni di storia delle radio libere bresciane. Quest'anno ricorrono i 40 anni, era il 1975 quando la prima emittente cosiddetta Libera iniziò a trasmettere e quindi quante storie sono passate, quante storie hanno da raccontare quei pionieri, cos'è la radio oggi e quale sarà il futuro della nostra grande amica. Lo scopriamo questa sera con i nostri ospiti, ve li presento subito, a partire da il nostro caro Franco Zanetti, che è l'ideatore di questo libro del quale parleremo. Buonasera, benvenuto. Direttore editoriale di Rocol, giornalista, conosciutissimo, ma soprattutto uno dei pionieri della radio bresciana, uno dei tanti, casualmente come molti altri, perché fu anche il caso, immagino, a quei tempi e sono curiosa di parlare di questo libro, perché ritengo che debba avere anche una funzione didattica, un prodotto di questo genere, un doculibro, perché in fin dei conti per sapere dove siamo, insomma siamo qua, cos'è stato prima? I ragazzi ascoltano la radio oggi, ma molte volte l'ascoltano senza sapere qual è la genesi, della radio, della televisione, comunque dei mass media, quindi ne parleremo questa sera. Grazie anche a Giancarla Paladini. Sì, amica innanzitutto, non posso dire altrimenti, sì sì, amica, 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 giornalista, poi svederemo anche i fatti nostri, giornalista, conduttrice radiofonica, conduttrice televisiva, insomma non ti sei fatta mancare nulla, adesso stai contribuendo anche alla realizzazione di questo libro, giusto? Assieme ad Andrea Crocsatto, che non è qua con noi, ma che salutiamo perché anche lui lo sta realizzando. Passo da questa parte e oibo, davvero impressionante di avere qua con me il, no, della tanta bellezza, vocale, soprattutto Graziano Venieri, conduttore radiofonico, voce storica, radio.nord, giusto? Radio.nord, mi dicono il Paul Newman delle radio bresciane, occhi azzurri sì, ma poi scopriremo anche perché, uno dei protagonisti ovviamente di questa gloriosa storia, e poi ringrazio anche per essere qua con noi Jean-Luc Stott, che è direttore musicale di Radio Onda d'Urto, critico musicale, insomma tante storie, tante cose da raccontarci anche lui. Buonasera a tutti i nostri ospiti, io direi, visto che parliamo di 40 anni di storia, dobbiamo ripercorrere appunto gli anni e vogliamo anche soffermarci su quello che è la radio oggi e di qual è il futuro di questa radio con le nuovissime tecnologie, perché non ascoltiamo subito i cittadini per sapere se ascoltano la radio, in che modo l'ascoltano e se è importante per loro. Quindi prego la regia di mandare in onda il contributo realizzato dalla collega Carla Costa. Faccio ascoltare la radio? Sì. Quando l'ascolti? Dipende, spesso quando sono in viaggio o in macchina. Cosa ascolti di più, musica o programmi? Tendenzialmente musica. Certo. Cosa ascolti? Radio DJ. Musica o programmi di intrattenimento? No, musica. Io preferisco musica, cioè la radio deve essere musica. Quando l'ascolti in particolare, in che momenti della giornata? Principalmente quando guido, quando sono in macchina. Certamente. Quando l'ascolta? Ma quando sono a casa la sera, perché io giro tutto il giorno, dalla mattina alla sera, siccome sono rimasto solo. Perché? Perché non ho tempo di guardarla, di sentirla. No, non le piace. Non guardo neanche più la televisione. Perché? Perché mi stufa a sentire chiacchiere. Sì. Quando l'ascolta? Tutti i giorni. In che momenti della giornata? Mattina, poi, 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 la povericcia. La macchina. La macchina. Anche lei l'ascolta? Sì. La mattina, soprattutto. E cosa ascolta? Più musica o programmi? No, io la metto su Radio 2, si chiama. Radio 2 l'ascolto. Tutti i programmi di Radio 2 che fanno al mattino sono tutti molto carini, che mi interessano. Ma secondo lei è cambiato un po' il ruolo della radio nel tempo? Sì, il fatto che vogliono apparire comunque sul web, così, cambia un po' la cosa, perché poi alla fine voglio dire, se devo vedere, guardo la televisione. Il fatto, io voglio ascoltare, voglio sentire, cioè mi interessa. Qual è il fascino della radio, secondo lei? Che si ascolta senza dover impegnare lo sguardo e guardare le cose. Non l'ascolto molto di frequente. Quando l'ascolta? A volte in macchina, ma non... Cosa le piace ascoltare? Canzoni oppure... Quello che capita, è normalmente musica, ma perché mi aiuta a passare il tempo? No. No, perché? Grazie. Ma non ho il momento di stare lì ascoltata, sono sempre in movimento, di conseguenza non ho occasione, però ogni tanto se c'è della bella musica l'ascolto volentieri. E ascolta la radio? Sì, dipende. Quando l'ascolti? Per esempio stamattina, che sono rimasta a casa da scuola e con mia mamma mi sono messa ad ascoltare la radio. Poi dipende quando ho tempo il pomeriggio. Lei ascolta la radio, signora? Tutte le mattine mentre faccio i mestieri. No, mai. Perché? No, perché a casa non ce l'ho. In macchina mi si è rotto tempo fa e sono studente, non ho neanche due lire per sostituirla. O santo cielo, ci dispiace che non si abbia né a casa né in macchina né sul computer, ma Franco, il fascino, si parlava di fascino, il fascino è mutato, il fascino della radio? Non te lo so dire, perché se tu chiedessi a me se ascolto la radio ti direi di no. So che ce n'è una. È cambiata la reazione della gente alla televisione, adesso ci sono quelli che hanno paura che tu gli chieda delle cose, che gli faccia partecipare a qualche raccolta di fondi e quindi scappano. Invece una volta c'era la televisione, ti ricordi quando vedevi una telecamera, ci facevano tutti così. La radio non lo so se è cambiata, perché non facendola più... E non ascoltandola? E ascoltandola solo in quanto radio di servizio, perché io ascolto Iso Radio quando sono in viaggio, e... davvero non te lo so dire, ti direi delle cose o nostalgiche o banali. E invece... Nostalgia canaglia. Ma non credo che sia una questione di come è fatta la radio adesso, di cosa trasmette la radio adesso, anche se a me personalmente danno molto fastidio i programmi in cui uno parla e due ridono, io non capisco il senso. La radio di intrattenimento per me, che ho campato una vita occupandomi di musica, è una specie di controsenso. L'ultima radio di intrattenimento che mi ricordi era gran varietà su Radio Rai 1 la domenica mattina alle nove e mezza, però era l'equivalente dei grandi varietà di Antonello Falqui del sabato sera, c'erano personaggi, storie, attori bravissimi e la musica era poca. La radio per la musica non l'ascolto perché la musica l'ascolto per lavoro e ne ascolto tanta con altri mezzi. A me piacerebbe che la radio venisse scoperta come possibilità di far compagnia alla gente, non necessariamente di intrattenerla, perché l'intrattenimento volendo lo troviamo un po' dappertutto. Le radio che fanno informazione leggendo i giornali sul tavolo del DJ, che fanno i quiz stupidi per sollecitare le telefonate, non mi interessano, ma probabilmente è una questione di età. È una questione di età, Giancarla. A proposito, l'età è anche un vanto, certe volte, non necessariamente, insomma vuol dire esperienza, vuol dire anche cose da raccontare, da insegnare, giusto perché io sono riconoscente a Giancarla, devo dirlo, non vincerò mai un Oscar e quindi non potrò mai neanche un Nobel fare questo discorso e quindi ne approfitto. Cara Giancarla. Oddio, no. No, non ti preoccupare, domande molto semplici. Ce la puoi fare anche tu. Ce la puoi fare, soprattutto la domanda è facilissima. Voi state intervistando diversi personaggi che hanno scritto la storia di questi 40 anni di... Ma c'è qualcuno che non ha voluto rispondervi, qualcuno che non vuole ricordare, qualcuno che preferisce dimenticare? Allora, una persona ha detto grazie no, non l'ha detto nemmeno direttamente ci è arrivata, insomma, questa scelta. Non ha detto neanche grazie. Niente, ha detto no. Però ci può stare, insomma, no? Certo. Ne parlavamo proprio ieri con Franco. Sai, per qualcuno, per la gran parte, la radio è stata ed è un momento di vita, permettimi anche questo aggettivo spirituale, no? Cioè tu cresci, ti confronti, impari tantissimo, ti limiti, ti moderi, ti modelli. Non è un percorso facile. Se a questo aggiungi che magari qualcuno può aver incontrato anche qualche persona decisamente negativa, non so se sia il caso di questa persona in particolare, però, insomma, c'è il lato oscuro della radio, quindi ci sono episodi di mobbing, gente che ha dovuto licenziarsi, andarsene via, gente che è stata allontanata e si è trovata di colpo senza lavoro, no? Allora, può darsi che alcune di queste persone decidano che ormai andata e superata la cosa va così. Quindi sono molti, moltissimi quelli che invece fortunatamente si danno disponibili e c'è un chi chiama chi e come già ti ho detto, insomma, siccome noi cerchiamo di fare un piccolo libro che parli di quelli che hanno fatto la radio, non di quelli... Di quelli che ci hanno campato con la radio. Che ci hanno campato, esatto. Io ascolto Danetti con interesse. A piccole dosi, ti prego. Sì, certo. Però, ecco, ci sarà tantissima gente che avrà qualcosa da raccontare. Noi stiamo cercando di rivolgerci a quelli che, per esempio, non solo hanno fatto la storia della radio, nel senso che la loro vita ha contribuito alla crescita della radio, ma sono ancora nel cuore della gente e, per esempio, ci sono delle persone lì vicino che, insomma, uno ancora assolutamente attivo in una realtà molto speciale, l'altro attivo lo stesso, però vorrebbe fare ancora di più e che ha ancora nel cuore delle persone, quindi Jean-Luc da una parte e Graziano dall'altra. Queste sono delle persone a cui dobbiamo comunque molto per il discorso della compagnia che diceva Franco. Poi ci sono altre cose, però intanto compagnia. Intanto compagnia, Graziano. Il ricordo, chiedere un ricordo è impossibile, ce ne saranno mille di ricordi bellissimi, ma il primo giorno della prima trasmissione, questo è presente nei ricordi, c'è? Sì, il primo giorno della prima trasmissione è stato con, diciamo, nella prima radio, quella che è stata un momentino più all'avanguardia, sia come tecnica che come tecnologia, che è naturalmente come imprinting, cioè come organizzazione, che è stata Radio Punto Nord, che è nata nei primi mesi del 1976. E ricordo la prima trasmissione perché io e Vallini, Vallini era il capo, in pratica, il boss di questa radio, la gestiva, era un po' il, faceva un po' di tutto, era l'amministratore, ma soprattutto era l'organizzatore di tante cose, era una mente molto veloce e, e la verità, pensava veramente in lungo. E abbiamo fatto questa trasmissione dove abbiamo annunciato quali erano i palinsesti e perché era nata appunto questa radio, che doveva essere una radio completa, completava tra l'altro tutto quello che poteva essere il panorama d'ascolto. Che c'era in quel momento, lo riempiva. E' nato tutto in quel momento perché si doveva coprire ogni fascia oraria, ma soprattutto si doveva coprire con delle persone che erano gradite anche dal pubblico. Un grande rispetto per il pubblico soprattutto, grande passione e mi ricordo quel giorno perché è stato molto emozionante. Grande rapporto col pubblico perché c'era uno scambio, tra l'altro, quotidiano, perché nascono anche come necessità di richiedere dediche, di comunicare. Era una valvola di sfogo anche per i cittadini che avevano bisogno di parlare con qualcuno, di dialogare o no? Diciamo che in quei tempi i cittadini non erano mai stati investiti in una radio, sentire la propria voce in radio, il fatto di dover telefonare in una radio e sentirsi il proprio... Protagonisti in qualche modo. Quello era importante, però la radio aveva, come ti dicevo prima degli step, aveva delle responsabilità che andavano su varie trasmissioni. Quindi c'era il biografo musicale, come era per esempio Franco, per un certo tipo di musica che a lui piaceva tantissimo. Altri si occupavano naturalmente di storia musicale, di artisti e cose del genere. Poi c'era anche l'intrattenitore, c'era il pop, come loro ero io. Io mi dedicavo in pratica a delle trasmissioni meno impegnative delle loro, però di conseguenza erano un momentino più vicino, perché c'era un contatto diretto con gli ascoltatori. Quando telefonavo le telefonate in diretta, io ero lì. Dovevi accoglierli, era bello proprio per quello, perché sentivi l'emozione dell'ascoltatore e l'emozione tua naturalmente è trasferire le tue emozioni a loro, perché mentre in televisione ci sono vari sensi che lavorano in simbiosi. A meno che non si aprano i centrali, ci sono dei casi, però la radio poi immagino a quei tempi all'inizio era il primo vero esperimento di comunicazione, no? A doppio senso. Sì, a doppio senso, però quello che allora era importante per gli ascoltatori era innanzitutto il rispetto che avevi per gli ascoltatori, perché ricordiamoci che noi non siamo dei protagonisti in radio, non lo siamo mai stati. Noi eravamo quelli che facevano un po' da tradunio tra la parte tecnica e la cittadinanza, cioè quelli che ascoltavano, e che volevano in effetti essere loro i protagonisti. Quindi ho detto grande rispetto per gli ascoltatori, grande amore naturalmente per la comunicazione, ma grandissima responsabilità, perché il microfono è un qualche cosa di estremamente pericoloso. Lo dimostro oggi anche alla telecamera, quando si esce col microfono sembra quasi un'arma, perché poi si ha paura di come vengono usate anche le dichiarazioni che vengono fatte. È una grande responsabilità. Assolutamente, sì. Da non sottovalutare, soprattutto proprio perché è una grande responsabilità, non bisogna mai confondere quella che è la modernità con la volgarità. Allo giorno d'oggi purtroppo ci sono radio che sono particolarmente volgari, c'è una scaletta se vuoi, dalla volgarissima... Io a Prey non sono un moralizzatore, non sono nemmeno un moralista, però in effetti il pubblico non ha età, insomma. Una degenerazione, una prevalenza. Se devi formare qualcuno lo formi nel miglior modo possibile. Assolutamente, d'accordo. Jean-Luc, fare radio oggi, si è sentito quali erano le necessità anche al tempo, e questo rapporto anche col pubblico. Com'è cambiato? Si è evoluto, si è involuto? Beh, è diverso sicuramente. Fra l'altro nelle domande fatte alla gente si parlava sempre di ascoltare la radio per la musica. Stranamente c'è una statistica che è uscita in questi giorni in cui mette in evidenza che tutte le radio di intrattenimento o comunque basate molto sulla musica sono in netto calo, l'unica che ha guadagnato è Radio 24 che fa solo informazione. Dunque questo sicuramente è un indizio un po' particolare. È cambiato sì, perché vent'anni fa per esempio la radio era lo strumento che faceva ascoltare anche le novità discografiche, anche dei bigger, cioè l'ultimo dei Rolling Stones magari lo avevi il giorno stesso e lo presentavi e cose di questo genere. Adesso con i mezzi che ci sono a disposizione, chi segue veramente un gruppo o qualcosa non aspetta più la radio per scoprire la novità. In internet è già un mese prima, cerca di beccare qualcosa. Qua devo fermarmi perché abbiamo la pubblicità che incombe e qua bisogna fermarsi, lasciare spazio ma riprendiamo tra pochissimo il discorso da internet. A tra poco. Gianluca, riprendiamo il discorso dove l'avevamo lasciato. Quindi oggi c'è internet che permette di ascoltare qualsiasi cosa si voglia in qualsiasi momento. Allora però il canale era una radio. La radio, secondo me, come la intendo io adesso, poi io lavoro in una radio un po' particolare in cui fondamentalmente basa il suo ascolto su l'informazione. Allora per quanto riguarda la parte musicale che è anche importante, ho cercato di metterla anche sotto l'aspetto informativo. Dunque giornalismo musicale, ma nel senso di presentare le cose. Sicuramente il nostro ruolo in questo momento, almeno per quello che ritengo in una radio come quella nella quale lavoro, è quello di far sentire magari quello che non avranno l'idea di andare a cercare l'internet. Dunque di essere sotto questo aspetto molto propositiva e di esserlo in un modo che riesca a incuriosire, diremmo, chi ascolta. Ovviamente è una scelta... Quanta possibilità c'è oggi di fare questo, di poter mostrare qualcosa di diverso da quello che offre il panorama, invece radiofonico? Ecco, è un lavoro lungo, però credo che alla fine porta frutti, cioè si si rende conto, per esempio, che Brescia è una città abbastanza attiva da un punto di vista gruppi, c'è un grosso fermento di gruppi, c'è un grosso fermento di attività live nei locali, è una città che viene indicata in Italia spesso come un punto di riferimento. Allora, di certo non è soltanto il merito della radio nella quale lavoro, qui c'è questo fermento, perché qui in questa città c'è parecchia comunque competenze che si sono create negli anni, spesso con gente che comunque ha anche lavorato nel mondo della radio, penso a Hubertini, penso a tanta gente che comunque quasi tutto questo mondo, in un momento o nell'altro, ha viaggiato nel mondo della radio. Ci sono tutte queste competenze, però credo che alla fine, proprio anche questo lavoro, pian pianino, ha portato a avere un riscontro anche nel quotidiano della vita musicale di questa città, di questa zona. E questo è un discorso molto interessante, perché effettivamente le radio, smentitemi se è così non è, nascono negli anni 70 anni di grandi contestazioni, di grande tecnologia, di grande voglia di parlare, di far sentire, ma anche di ascoltare qualcosa di diverso, qualcosa che non veniva proposto dalle radio che potevano trasmettere fino a quel momento. Quindi un'apertura sul mondo di un qualcosa, insomma, che non si era sentito prima. Non è che oggi, invece, si è passati esattamente all'opposto, c'è talmente tanti, ci sono tante radio, c'è tanta però omologazione, quindi per ascoltare qualcosa di diverso, appunto, la radio è onda d'urto, ma ci sono anche, bisogna tornare sulle vecchie radio, quelle che adesso trasmettono qualcosa di diverso, che una volta invece erano motivo di fuga. C'è il rischio omologazione adesso, come può succedere nel cinema, non le grandi... È il form della e-tradio, sono le radio che decidono di passare solo grandi successi, è un form che si è diffuso dannosamente per i network, e in radio, chi per esempio fa musica, produce dischi e vuole, vorrebbe che le sue musiche finissero trasmesse dalle radio, non ci arriva, perché nessuna radio ha più la voglia, la curiosità, il tempo, la convenienza economica a trasmettere musica che non sia già popolare. Ormai la radio serve a ribadire la notorietà di un successo, non serve fondamentalmente più a fare un successo. Non ricordo da... Non ricordo dai tempi di Tre Parole, una canzone che sia nata, Tre Parole di Valeri Rossi, una canzone che sia nata da una radio che ha deciso di trasmetterla, mentre le altre non la trasmettevano. Oggi che responsabilità è quella di, appunto, è una soluzione forte di responsabilità, quella di scegliere, mi chiedo, sapendo come funziona il palinsesto, chi lo sceglie, chi sceglie le musiche? Nella radio non c'è nessuno di quelli che parlano che sia anche quello che sceglie il palinsesto. C'è un palinsesto scelto da un direttore musicale che sistema le canzoni in base a una serie di criteri che sono di genere musicale, di notorietà, di attinenza con l'ipotetico pubblico che in quel momento sta ascoltando la radio e chi conduce la trasmissione spesso non sa nemmeno quale sarà la prossima canzone che deve trasmettere. Posso aggiungere una constatazione che mi dispiace da questo interessantissimo sondaggio che viene fuori che per radio si intende il network, la radio nazionale, non la radio locale. Ecco, soffermiamoci su questo. Quindi, negli anni 70 nascono le radio libere. Libera da cosa? Dal network no, però. Qualcuno lo sa, qualcun altro numero. Libera dalla preoccupazione di pagare lo stipendio quelli che ci lavoravano perché facevamo tutto gratis. Ma no, si diceva libera di scegliere perché c'era questa cosa che si trasmetteva musica che su Radio Rai non passava. Sì, più che altro era la liberazione delle onde che non era più il monopolio dunque. Ma in realtà l'addizione radio libera è stata anche radio pirata. È stata esaltata dalla canzone di Finardi perché in realtà le radio fin da subito sono state soprattutto private nel senso che non si riconoscevano all'epoca in un editore importante in un industriale in qualcuno che pensasse di ricavarne del denaro. Erano, ecco, forse erano libere dalla necessità di guadagnare per poter pagare chi trasmetteva in radio. Però poi, visto che nel libro parlate di chi ha fatto la radio ma chi con la radio ci ha campato quindi non era possibile. No, poi da un certo punto di vista da un certo momento e da un certo punto di vista le cose sono un po' cambiate nessuno né dei presenti credo né di tanti altri che abbiamo che stiamo intervistando è diventato ricco trasmettendo a te in fretta non rivediamo anche trasmettendo per radio rivendendo le radio si è diventato sono due cose diverse ha fatto benissimo ha fatto un passo necessario ma certo perché a un certo punto tu cresci anche ma ha fatto benissimo cioè è veramente chapeau perché aveva la capacità ovviamente manageriale conosceva perfettamente il mezzo barra prodotto perché poi quando si tratta di comprare e vendere ahimè di quello si tratta magari ecco può dispiacere che in questa maniera sia venuta a mancare una parte storica della radiofonia locale che era bella perché proprio perché c'era questa grande diversità per rispondere alla tua domanda era libera perché ognuno poteva dire quello che voleva però attenzione come diceva prima Graziano con un grande rispetto per il pubblico poteva anche arrabbiarsi poi c'erano le radio già decisamente più commerciali Punto Nord è stata attacciata forse anche ha ragione per una minima parte di snobismo ma non era quello l'obiettivo era mettere sul mercato qualcosa che doveva diventare qualcos'altro di più grande poi c'erano le radio che protestavano è nata Punto Nord e è nata Radio Popolare che rappresentava tutto l'esatto contrario Quante erano le radio libere a Brescia? Ma tra la metà degli anni 70 e la fine degli anni 70 solo in città ce ne saranno state 18 19 solo in città e circondario in provincia moltiplica per per 8 per 9 però quella che quelli che parlano bene chiamano pluralità di voci non è che fosse una scelta è che ognuno faceva la radio per istinto noi qui a Brescia abbiamo avuto una radio simile a nessun altro che io conosco a Radio Monte Maddalena dove a un certo punto era soltanto una persona che parlava tutto il giorno e che diceva le cose che pensava lui e sollecitava il pubblico quasi a reagire nemmeno a dargli ragione o a fare domande è stato un modello di radio assolutamente originale strano non credo che ci sia ancora sul web forse c'è ancora sul web però è stato un esempio curioso ecco quello che dispiace a chi ha fatto radio in provincia come noi o come me quello che dispiace a me è che a un certo punto da una parte le radio che volevano cercare di durare e di sorreggersi economicamente hanno pensato che il modo fosse andare a imitare i network e le altre si sono perse oppure sono state comprate da chi poteva comprarle per spegnerle oppure le frequenze sono state vendute perché bisogna pure pagare le bollette però con questo non voglio dire che noi siamo stati degli eroi della comunicazione che non la facevamo perché ci divertivamo un sacco non eravamo quando tu prima dicevi avete fatto la storia ma noi non lo sapevamo non sapevamo neanche di fare la geografia noi stavamo facendo una cosa che ci divertiva moltissimo moltissimo ma oggi ci si diverte ancora a fare radio sì 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 ma credo che se si fa radio deve essere così perché io dico se io non sono mai andato una volta in radio dicendo preferirei essere altrove ecco devo andare in radio il giorno in cui mi succede il giorno dopo sto a casa che credo che è difficile comunicare qualcosa se non c'è questa voglia ma c'è poi la soddisfazione di avere anche un feedback positivo cioè la soddisfazione è qui perché come diceva Franco economicamente di sicuro no non parlo mai di soddisfazione economica no no ma nel senso che quella beh quando qualcuno ti viene a riparlare di un programma che facevi 30 anni fa o che ti dice io non so mi sono ritrovato un libro dedicato un libro scritto sui clash mi è stato dedicato perché quella loro ascoltatore aveva 16 anni ha scoperto i clash la musica tramite il programma che conducevo sono cose che ovviamente emozionano addirittura o quando qualcuno non so o come oggi ogni tanto mi succede al supermercato che dietro di me mi arriva la vocina che canta la sigla del programma che faccio al mattino sono piccole cose però sono cose veramente che lasciano insieme poi si perdevano anche le fidanzate facendo la radio perché se tu passavi tutta la domenica a registrare in radio per la settimana la tua fidanzata ce la senti bello se la tua fidanzata è la radio e poi si diventava anche dei miti Graziano so di telefonate a casa sì sì è vero poi hanno inventato la fotografia e lì è cessato tutto perché hanno visto la faccia che aveva invece peraltro si è capito perché facevano radio e non televisione esatto esatto no guarda nel caso di Graziano lui un po' lo dice col senso adesso gli lancio io la cosa perché lui è contento però giustamente è un padre di famiglia adesso io invece lo posso dire che davvero c'erano fuori radio.nord a parte le lettere che arrivavano a parte le cose eccetera ma veramente le fans quelle che avevano un regalo per lui eccetera e lui qualche volta non poteva neanche uscire perché un regalo a caso allora lui si facciava in maniera abbastanza è la verità papale salutava così quelle non gridavano perché erano anni in cui non stava bene però soltanto così in compenso la pizzeria piragna che stava di fronte che forniva i panini e che c'è ancora di fronte pubblicità esatto faceva pieno pubblicità forniva anche va bene pagherò il tanto della pubblicità lo vedi come sono diventati ma a proposito della pubblicità visto che adesso dobbiamo andare ancora in pubblicità però questo libro perché no diciamo se qualcuno volesse sponsorizzarlo perché no noi facciamo anche pubblicità insomma poi contraccambiate ecco volendo a tra poco ecco era che tu ti arrangiavi, dovevi arrangiarsi da solo, dovevi far tutto da solo, quindi era bellissimo perché arrivavi, era il tuo umore naturalmente che si trasferiva in radio, quindi gli ascoltatori, visto che dovevo utilizzare... Non dire adesso tutte le cose intelligenti che hai da dire dopo quando sei registrato, perché adesso... Ma non è partito ancora? No, si vedeva, avevi già cambiato voce. Siamo partiti, siamo già in onda. Vai, vai. Ma facciamo lo scherzettino. Per esempio, quando... Era bellissima, io la rivolgo così, ma non sono un nostalgia. Scusa se ti interrompo un attimo, Grazie, ma la radio era davvero questa, cioè tu andavi in onda e c'era il fonico dall'altra parte che faceva apposta a farti ridere, cioè il suo passaggio, non avendo nient'altro da fare, non aveva niente da fare, ti faceva ridere, tu dovevi stare serio, perché magari in quel momento avevi una telefonata, come era capitato una volta in una trasmissione che facevamo con Franco, cioè voglio dire cineraria, no? Perché era una situazione, questa poverina raccontava di situazioni difficili e di là c'era il pollo del fonico della situazione che mimava e quindi tu dovevi stare serio, hai capito? Lavoravate in una serie perché avevate il fonico perché... A Radio Punto Nord, Punto Nord c'era. Ernesto Cominio non è che ti facesse molto ridere. No, infatti non era lui, sì. E neanche Pietro Pereva forse si occhiava. No, in quel caso c'era Anna, Annina, che era stata l'unica fonica probabilmente ed era una persona straordinaria. Scusate, vi ho interrompito. Bisognava ingegnarsi sostanzialmente quotidianamente per riempire... Era quello il bello della radio, perché tu andavi in radio ma non avevi un palinsesto, te lo cravi man mano che parlavi o sentivi le persone che poi ti telefonavano e tu sceglievi il disco che in quel momento lì ti piaceva e in conseguenza continuavi a scegliere le tue canzoni, no? E conducevi questo programma in un modo completamente diverso. Bravo Grazie, hai detto una cosa... Da quello che doveva essere. Questo è verissimo, tutti noi che abbiamo fatto a radio l'abbiamo fatta sempre improvvisando, adesso c'è gente che fa radio con gli autori che scrivono le cose che devono dire. Infatti questo che mi interessava anche appunto adesso c'è ovviamente un copione da... È impersonale, cioè non... Ma no, ci sono proprio quelli che ti scrivono le cose che devi dire. E che però non fanno neanche così breccia come magari quelle che venivano, uscivano spontaneamente. Se tu calcoli che le cose più importanti erano la gente che ti ascolta, cioè gli ascoltatori a cui dovevi in pratica, come ho detto prima, avere un ritorno perché è importantissimo, un rispetto enorme, però erano di una fascia varia, cioè non c'erano solo degli ascoltatori di una certa età e basta. C'era il bambino, c'era la ragazzina, c'era il nonno e c'era quell'altro. E c'erano i supermercati, c'erano i negozi dove ascoltavi la tua radio, ti sentivano la tua radio. Il bello era che la musica in pratica seguiva il tuo umore e tu trasferivi in radio il tuo umore. E la gente di là, siccome utilizzava solamente l'orecchio e poi la fantasia, non vedendoti, riusciva a capire chi eri, come stavi, che cosa c'era che non funzionava, se andava tutto bene, se trasferivi allegria, se trasferivi in pratica tristezza. Era un, come si può dire, viaggiavi in simbiosi con la gente che c'era al di là del microfono. Più umana, più vera. Esatto. Adesso è diventato impersonale, non si è più nemmeno che canzone c'è. Una volta ti alzavi di corso e andavi a prendere il disco perché ti sfregolavi sul fatto che in quel momento lì ci voleva quella canzone, per poter catturare quella, per poter rendere un po' sensibile la giornata, per poter rendere il momento un momentino più, come si può dire, più... Anche sopportabile. Più intimo, se vuoi, nel contatto con la gente. Quindi non sei il tuo il protagonista, ma era la musica il protagonista, trasferita con l'umore direttamente alla gente che ti ascolta. Era bello per questo perché la personalizzavi tu la tua trasmissione. Ora, il giorno d'oggi, invece, o sono... O evidentemente si lasciano troppo andare perché vogliono essere protagonisti, o pensano che in effetti la radio sono loro. Ma non è così, bisogna essere anche umili. Peccano un po' troppo di protagonismo, c'è poco lavoro di gruppo forse. La fanno in un altro modo, Graziano, la fanno anche per altre ragioni, la fanno perché molti di quelli che fanno radio vengono dalla notorietà o televisiva o per altri motivi, ci sono radio che fanno fare radio a personaggi noti per ragioni esterne. Anche la televisione la fanno fare a persone note per altre cose che non hanno certo il background. Ma io sono stato quattro giorni consecutivi ospite di una radio piuttosto importante del nord Italia durante i festival di Sanremo e mi veniva l'ansia perché la conduttrice vedeva passare sul suo computer le canzoni che sarebbero dovute passare dopo e diceva se non smettiamo adesso subito di parlare devo togliere questa, però poi tolgo questa. Ma non ce ne importava niente, avevamo un minuto in più da parlare parlavamo e poi prendevamo il disco e la mettevamo su. Non sto dicendo che fosse più bella la radio come era allora, sto dicendo che per noi che la facevamo era molto bello. Non so quanto lo sia per quelli che la fanno adesso. Ecco, su questo mi permetto di dire che comunque ci sono anche nelle radio, se vogliamo dire più grandi insomma, non soltanto quello che è, dei grandi appassionati, cioè gente che ha comunque la fame della radio. Non è che non ci sia più, non sarebbe giusto dirlo. È sicuramente vero che ci sono dei grossi limiti, appunto i pezzi non li scegli tu e passi. Il problema è che hai, non so, ti dicono guarda ce la fai adesso a dire un po' di cose perché hai 30 secondi ed è giusto che sia così perché hai il ritmo, hai il countdown, devi prendere l'intro con quello, però magari in radio, in un'altra radio, tu avresti parlato 15 secondi oppure avresti parlato 3 minuti se avevi qualcosa da dire. Quando parlavi era per dire qualcosa che poteva essere anche la battuta, ma che era finalizzata la compagnia e che caratterizzava la radio e il personaggio. Voglio farti notare che tutti e tre questi signori, ma vale per tanti altri, hanno una voce assolutamente radiofonica, assolutamente inconfondibile. Il marchio di fabbrica, e c'erano anche alcuni imitatori devo dire, però tu sentivi le voci... Ah sì, c'era un imitatore... No, 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 non erano loro, gli imitatori non erano loro. Ma tu andavi, ti sentivano parlare, ti riconoscevano dalla voce, no? Vuol dire che avevano memorizzato non solo il timbro della tua voce, ma anche te, chi eri, come dice giustamente Graziano, come può testimoniare in altro ambito anche Jean-Luc, un punto di riferimento della loro giornata. Jean-Luc, ma la radio che si fa oggi, la radio che gli ascoltatori vorrebbero, o è più la radio che invece i grandi sponsor vogliono, o i grandi gruppi vogliono? Allora, io non mi pongo questo problema perché sono in una radio in cui non esiste pubblicità. È una radio che si basa anche molto sulla sua realtà locale, anche per esempio parlavamo di scelte precedentemente, io da bastardo francese ho messo un po' in pratica quella che è un po' la legge vigente là, che in Francia la programmazione musicale deve essere almeno del 50% di produzione francese. Io qui come scelta, come responsabile della programmazione musicale Graziano D'Adulto, ho scelto un 60% solo di produzione indipendente italiana, di qui più di un terzo sul locale, perché mi sembra importante di avere un ruolo proprio sul locale, diventando anche punto di riferimento per le realtà locali, ma anche di incitamento, perché poi mi accorgo anche che quando arrivano con il loro CD il loro demo ha portato, lo vedono che gli dai attenzione, che comunque gli darai un minimo di spazio, anche se non è l'ultima genialata, però gli dai spazio a un ruolo, a una funzione, a uno stimolo. Io lo intendo in questo modo. dopo la scelta su quello che può essere la programmazione, io sarò ancora la vecchia, perché nel senso di queste logiche commerciali non ne ho la necessità, però alla fine, voglio dire, se poi Radio Onda D'Adulto riesce a mantenersi grazie al supporto degli abbonamenti alla radio e alla festa, una festa che esiste perché ci sono anche 300 volontari che ci lavorano, dunque 300 persone che rinunciano a buona parte delle loro ferie per sostenere questa imitetta, vuol dire che qualcosa stai a significare sul tuo territorio. La passione musica c'è ancora, sì. Lì, vabbè, musica è anche magari informativa, eccetera, però comunque vuol dire che hai un ruolo sul tuo territorio e questo credo che sia importante. Una volta, per dire una roba nostalgica, è una situazione atipica, i notiziari che si facevano in maniera del tutto artigianale nelle radio in cui abbiamo lavorato noi fino a un certo momento, non erano imposti della legge, li facevamo perché era un servizio, ma tendevamo a dare notizie locali perché la pubblicità era quella del salumiere del quartiere e la notizia che interessava a chi ci ascoltava era cosa era successo in corso Zanardelli, se si poteva passare con la macchina o no. Adesso tu senti i notiziari di qualsiasi radio e, devo dire, anche di molte televisioni che fanno dei notiziari nazionali, aprono con la notizia importante a livello nazionale. Io, da lettore di giornali locali, ascoltatore occasionale di radio locali e spettatore occasionale di televisioni locali, trovo che tutte le cose che succedono più importanti di quelle che succedono nella nostra città le possiamo vedere dove vogliamo, raccontate meglio e prima. Noi dovremmo ascoltare la radio, guardare la televisione e leggere il giornale che ci racconta quello che i grandi giornali nazionali non ci raccontano della nostra città, della nostra vita. Non voglio arrivare a dire il gattino salvato dall'albero, una vecchietta che scivola per le stalle. Perché gattini vanno molto, anche su web. Però, in questo senso, a me piace ancora di più adesso, più che la definizione radio pirata, più che la definizione radio libera, mi piace la definizione radio locale. Oggi avrebbe, mi permetto di dire, forse addirittura più senso che non allora. Perché allora era locale perché facevi la radio nel condominio di casa tua. Insomma, questo era, fatta l'eccezione iniziale di Punto Nord e poi anche di Radio Voi, che invece aveva a sua volta delle attrezzature incredibili, anche delle velleità di altro genere. È durata 15 minuti. È durata poco. Però, oggi ha veramente senso, ma non per il localismo, che è la parte deteriore della cosa. Non è per la chiusura. La radio non può essere chiusa, perché è comunicazione. È, viceversa, lo spazio, proprio per evitare quello che dicevi tu prima, cioè l'omologazione, che è una cosa terrificante, perché noi davvero smettiamo di pensare con la nostra testa. Si accetta l'idea che la radio sia quella che propongono neanche tutti i network, che, ripeto, forse non è neanche corretto demonizzare. Ma la radio non è quella, è la loro radio. Loro fanno quello. Non ci piace. Cambiamo la sintonia. Questa è libertà. La democrazia. Tutte queste cose qui, lo dico a beneficio dei gentili tuoi ascoltatori. Non ci sono nel libro. Esatto. Non ci sono nel libro. E ci dirò meglio, perché dovranno prendere il libro. Nel libro non ci sono. Il libro è la gente che racconta la prima trasmissione in radio, la sigla del suo secondo programma, quella volta che ha litigato con un DJ di un radio concorrente. Cerchiamo di raccontare le storie delle persone, non di fare la filosofia della radio. No. Quella la facciamo qua. Quella, sì. Però se non ci fosse la voglia di raccontare le cose successe senza un inquadramento né ideologico né storico, dicevo prima, non faremmo storia al massimo una geografia locale. Questo libro non avrebbe senso chi lo legge. E oltretutto c'è gente certamente più competente di noi che potrebbe scrivere una roba così. Più competenti di noi per scrivere un libro sulle persone che hanno fatto la radio locale a Brescia non ce ne sono. E quindi quell'altro che voleva farlo No, c'è un altro che quando ha saputo che noi volevamo fare il libro ah ma era un'idea mia l'avrei fatto io. No, l'avresti fatto male perché non conosci le persone. Ma voi parlate di ciò ciò che parlate e raccontate ciò di cui sapete e che avete vissuto. Pubblicità abbiamo poi gli ultimi 5 minuti e altre informazioni su questo libro non le storie perché quelle andranno lette naturalmente tra poco. Noi stavamo continuando naturalmente durante la pubblicità a parlare mi stava dicendo Graziano che erano libere perché si erano sdoganate dal monopolio statale sì 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 ma questo forse avevamo accennato dal monopolio della radio si erano sdoganate da quello quindi erano diventate in pratica da radio pirata erano diventate libere perché c'era la possibilità pirata perché c'è stato un periodo in cui qualcuno ha iniziato a farle non avendo ancora una scossa alle radio nazionali come sempre c'è da dire però che in effetti noi abbiamo avuto tutti una base d'ascolto io ricordo nel 1970 che ascoltavo i 1440 kHz di Radio Lassenberg che è stata la prima radio in effetti è stata la prima radio ma è stata la radio ancora adesso più importante perché il modo di condurre quindi il modo di lanciare le canzoni il modo di poter parlare al pubblico il modo di gestire proprio una radio era una cosa fantastica bellissima e allora quando tornavo da Bergamo che con la mia Diane con la mia piccola Blaupon mi sinitalizzavo sulle radio frequenze di Radio Lassenberg che trasmetteva di sera di sera e di notte e da lì si sentiva si riceveva perché sera sera, tarda e notte e lì era una fantasticavia perché in effetti era bello era una bellissima compagnia e secondo il mio punto di vista non è una questione nostalgica ma se la nostalgia è apprezzare quello che evidentemente era di buono ma era anche di attitudine nessuno di noi annunciava fantastico in Rai c'erano gli annunciatori che erano bravissimi che erano bravissimi era un'edizione perfetta e qualcuno scriveva quello che dovevano dire noi eravamo era come stare a casa tua vengono a trovarti quattro amici e gli fai sentire i tuoi dischi noi lo facevamo moltiplicato per cento non so all'inizio non più di cento però era la stessa attitudine ma Franco quindi questo libro qua che racconto abbiamo detto tante storie non vuole fare la filosofia ovviamente storie dei protagonisti si ride anche diceva Giancarlo si piange si piange anche si ricorda raccoglie di gioia raccoglie di gioia che sono sempre utili quando uscirà questo libro? dillo tu dillo tu Giancarlo su dallo coraggio il 15 ottobre il 15 ottobre che è una data importante è la data in cui è stato trasmesso per la prima volta un segnale dal trasmettitore di Radio Brescia che era rezzato fino al ripetitore di Radio Brescia che era ufficialmente in Maddalena in realtà in vedetta infatti non riusciva a scavallare perché era più facile si diceva che doveva essere in vista ottica quindi si collegò con la vedetta il titolo non lo sapete ancora anche se non abbiamo intitolato questa trasmissione tanti auguri a la radio è l'apostrofo a radio perché è così caro perché noi in realtà un po' ce lo dicevamo fra noi un po' ce lo dicevano a casa ma fella radio e chiaramente fella radio è scritto la radio no ma poi arrivavano le lettere proprio è l'apostrofo a radio sì cioè per esempio io devo avere una busta a radio Brescia ma non a radio Brescia a radio Brescia che tu dici saranno di Roma questo libro avrà oltre le parole anche qualche immagine del tempo eh lì dipende dall'editore dipende da quanto vuole spendere adesso ho visto che ci manca un minuto e quattordici allora ci siamo appellati agli sponsor sì qualcuno che abbiamo già citato si volesse sì perché i poveretti che lavorano se no lavorano sono nella speranza di royalties che chissà come dicevo prima l'editore potenziale c'è l'editore potenziale c'è potenziale probabile probabile molto probabile definitivo eh quanto alle storie voi ne avete state ancora cercando protagonisti persi sì noi abbiamo un un obiettivo un obiettivo di 40 interviste 40 come gli anni che raccontiamo e e come i secondi che mancano quindi abbiamo finito gli obiettivi l'obiettivo è venderne moltissimi no ma guardate che la radio è bella però insomma lo vogliamo dire perché l'abbiamo vivi sezionata è straordinaria fate un po' di radio nella vostra vita meno psicologi e più radio potrebbe meno psicologi e più radio potrebbero salvarci potrebbe salvarci la radio sì no anche gli psicologi devono lavorare però quelli li lasciamo ai casi estremi la radio costa di meno ascoltarla però bisognerebbe pagare costa di meno ascoltare la radio che una seduta da una psicologa però poi c'è il problema che se lo psicologo tu sei tu proprio tu sei sdraiata sul divanetto il tuo psicologo ti parla con la voce di Graziano è un problema diventa un problema abbiamo terminato il tempo però un minuto me lo prendo per chiedervi le web radio le web radio web radio di oggi possono essere paragonabili alle radio libre di allora o non c'entrano nulla secondo voi il fatto delle web no? la libertà del web libertà, anarchia, democrazia non si sa velocemente ma il discorso è che le radio già normale diventano già anche loro web radio dunque la web radio parte da un altro punto di vista che può coprire una funzione che comunque ma se qualcuno si apre la propria web radio si ma a me sta benissimo quello che può cambiare davvero sarà la radio satellitare quello sta cambiando molto in effetti si possono fare radio come dicono i tecnici verticalissime cioè soltanto di country in western soltanto di musica napoletana perché a quel punto tu puoi essere ascoltato da tutti gli appassionati di tutto il mondo se trasmetti una nicchia strettissima di musica lunga vita la radio termino così grazie a Franco Zanetti grazie a Giancarla Palladini grazie a Graziano Venieri grazie a Gianluca Stott come sempre grazie a voi che ci seguite ogni settimana e grazie ai nostri tecnici che ci mandano in onda alla prossima settimana arrivederci grazie a tutti